Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Perché il gioco esce il 22, lo sto provando ovviamente prima, non so direvi il prezzo, sappiate solo che rimarrà in AirD Access per un annetto circa e al momento del rilascio garantiscono una quindicina di ore. Poi ovviamente da calcolare che c'è tutto un anno di aggiornamenti da fare. Lo voglio iniziare dall'inizio perché vi voglio far vedere come comincia, lo giocheremo a normale. È un gioco di sopravvivenza dove guideremo una nave, dove crafteremo, dove mangeremo e berremo per non morire. Voglio saltare tutta quella che è la storia perché quello ci sarà tempo, non stiamo lì ad analizzare, è successo qualcosa, insomma c'è stato un cataclisma e i terrestri sono scappati, c'è un virus e poi tornano sulla terra per poter mettere tutto in sicurezza. Questo è a grandi linee, poi troveremo diversi documenti che come meccanica mi ricordo un po' quella di Subnautica ma di tanti altri giochi, ma qua parliamo di un indie quindi è inevitabile pensare a Subnautica anche a livello di grafica. Che ricorda anche un pochino Nome Sky, dire la verità. Comunque abbiamo la possibilità di leggere di questo Sagittarius II che è diventato silenziato per dei mesi, poi il segnale è tornato, insomma, e iniziamo. Qua abbiamo la possibilità di apparire ma non si apre, quindi teniamo premuto il tasto E e apriamo l'escape pod. Questo è l'inizio del gioco dove possiamo iniziare a prendere già qualche equipaggiamento, si vede tutto il corpo, ovviamente abbiamo tutte quelle piccole premesse promettenti che tanti altri giochi non ci concedono. Abbiamo la possibilità, sì, di prendere degli oggetti che sono già nascosti, che serviranno poi per il crafting. Cerco di andare veloce perché so già che cosa ci aspetta dopo e vi consiglio di rimanere qui per scoprirlo insieme a me. Cioè io l'ho già scoperto ma arriverò a un punto in cui scoprirlo insieme a voi. Qua abbiamo un computer che non ha corrente, qua vediamo subito che ci viene richiesta una batteria a stato solido. Quindi noi continuiamo con la nostra esplorazione, abbiamo... il gioco è un po'... Allora, a me gira bene, l'unica cosa sento l'evento del PC che spingono, quindi potrebbe essere un problema di ottimizzazione. Calcolando però anche che sto giocando in DirectX 12, quindi il gioco non è ancora ottimizzato, infatti gli sviluppatori consigliano di non giocarlo in 4K ma in 1080p, cosa che sto facendo io ovviamente. Però ecco sotto il tavolo inizio a sentire un leggerissimo caldo, non fastidioso. Insomma si sente. Stiamo vagando cercando una batteria e il gioco ci impone di utilizzare il tasto salto. Possiamo aprire varie cose, qua vedete che abbiamo una batteria solida, quindi qua abbiamo già recuperato qualcosa. Voglio continuare a recuperare cose, perché se moriamo c'è il respawn, quindi in questo caso vi chiarisco già il dubbio che si può rinascere. E probabilmente a livelli di difficoltà maggiori non c'è questo privilegio. Allora intanto abbiamo recuperato, quindi andiamo a mettere, ovviamente c'è un inventario e in basso a sinistra vedete che c'è la stamina, la vita, insomma. Ok, ora dobbiamo controllare il computer, vedete che abbiamo dei messaggi non spediti. Ok, satisfa your hunger, quindi dobbiamo mangiare, quindi in questo caso andiamo a mangiare subito. Piccando col destro vedete che abbiamo 7 su 20. Ma non è quello, non è quello, sono le machine parts, no, devo trovare qualcosa da mangiare. Più che altro, io avevo trovato qualcosa nell'altro, ma no. Vabbè, usciamo, andiamo a vedere di là. Perché adesso inizia davvero la parte interessante. Dobbiamo trovare qualcosa assolutamente da mangiare. Documenti si trovano in ogni dove. Food ration ration. Ok, possiamo mangiare. Quindi vedete che ce l'abbiamo qui. Clicco col destro e mangio. Trova una via per lasciare la location. Ok, continuiamo a salire, continuiamo a prendere varie cose. Bottiglia vuota, che è molto utile perché possiamo riempire la bottiglia di acqua sporca, ma vedremo anche quello dopo. Io continuo a trovare documenti, continuo a recuperare materiale. Questa è la nave, l'astronave che useremo adesso. L'astronave ovviamente non ha motore e quindi non la possiamo lasciare. Ha però un collettore d'acqua che richiede una membrana di condensa e ha uno slot di esca. Quindi servirà probabilmente per raccogliere qualcosa. Questa è la nave. Questa è la nave, però non è finita qui perché dobbiamo piazzare il Fabricator. Il Fabricator è praticamente questo. Il Fabricator fa parte di uno di quegli oggetti posizionabili. Quindi magari lo mettiamo qui davanti. Lo piazzo. Il Fabricator ci fa craftare le cose. Quindi cliccando vedete che possiamo andare a fare il deck extractor. Che ci chiede machine parts. In questo caso io tengo premuto e lo inizio a piazzare. No, perché mi serve il Transformer. Quindi il Transformer è qui. Lo prendo e vado a piazzarlo. Quindi in questo caso tenendo premuto vedete che mi crafta il deck extractor. Questa è una meccanica molto importante perché... Vedete adesso l'ho preso e lo posso posizionare. Perché? Perché lo posiziono qui. È una cosa molto interessante perché mi consente, andando ad utilizzarlo, a distruggere gli ambienti dove io mi trovo, dove io atterro, posso smembrarli e quindi andare a recuperarne i materiali. Io adesso inizio già a recuperare questi perché so che mi serviranno dei synthetics. So che mi servono dopo. Ma la meccanica è... Mi dice che mi sta calando... Sto prendendo tipo il virus. Mi dice comunque di distruggere questo così mi posso concentrare su quello che c'è all'interno di questa stanza. Mi fa chinare e mi fa prendere anche gli oggetti all'interno. Ho un altro documento che mi spiega la ricerca dei blueprint. Adesso recuperiamo anche queste mechanics qui. Recupero anche queste machine parts. E prendo la research station. Ok. Che posso piazzare anch'essa all'interno. Ovviamente se in una zona non posso metterla non me lo lascio fare. Allora, adesso io vorrei piazzarla in un punto dove però non mi dà fastidio. Potrei metterla qui. È piccolina la nave. Quindi la dovrò guidare da qui con non poca difficoltà. dato che ho la station qua. Inserire una batteria. Ok. Quindi inserisco la batteria. Poi potrò riposizionarla. Forse era meglio qua dietro ma va bene. Research the scanner. Quindi qua abbiamo delle ricerche che possiamo fare e a noi serve lo scanner. Vedete che il Synthetics che ho preso prima mi servivano per questo. A ricerco lo scanner. Lo scanner vedete anche queste meccaniche qui mi ricordano molto Subnautica la stampante 3D insomma. La produco e adesso cercheremo di mettere in moto questa nave. Questa potrebbe essere veramente un'alternativa veramente ottima a Subnautica da portare nel corso degli anni. Devo craftare lo scanner. Mi servono però dei Synthetics. Quindi io adesso prendo il cannone che ho qua e vado a prendere dei Synthetics che a intuito sono nella plastica. Perfetto ho fatto. Posso finalmente craftarmi è un po' affollato qui dentro potrei metterlo anche fuori volendo. Comunque crafto lo scanner lo scanner è un oggetto utilizzabile personalmente quindi prendendolo mi viene messo negli slot veloci sotto e quindi possiamo andare a vedere usandolo quali materiali ci sono all'interno di ogni blocco che vedete lì a destra dice richiede i Dex Extractor se vado qui mi dice richiede la bottiglia vedete Empty Battle ora devo andare col tasto Tab a vedere gli studies che mi fa mi spiega delle meccaniche sulla ricerca e sullo scanner praticamente Communication Facility Ruins devo scannerizzare queste cose scanner synthetic cluster floating in the air quindi io posso andare a scansionare una di queste cose fluttuanti continuando a puntarla tenendo premuto e scansionandole in quel caso ho raccolto dei nuovi progetti quindi posso ricercare il motore e il carburante quindi andiamo subito a ricercare Engine and Fuel lo ricerco mi servono anche dei metals quindi i metals io penso ipotizzo di poterlo fare scansionare distruggendo queste cose qui metals 5 metals 5 e quindi vado 10 15 posso distruggere anche questi sì perfetto forse posso farli adesso Engine and Fuel sì infatti vedete che mi ha inserito i materiali che avevo già ok Research Engine and Fuel lo stai cercando l'abbiamo ok ho bisogno di bere però bevo la cocchina le bevo tutte e due così mi riporto la setta al massimo Craft and Engine ok andiamo al crafting che non ho tra l'altro Tools aha Tools Water Purifier Insert Catcher che è quello che abbiamo fuori Electric Cooker per cucinare un letto e Engine le Engine mi servono dei Synthetics e dei Metals allora i Synthetics li facciamo subito prendo subito questo vabbè i Metals li prendiamo lì sopra senza alcun tipo di problema e Synthetics spero di trovare ancora qualcosa in giro di Synthetics questi sono Synthetics anche quelli sì perfetto fantastico è stato veramente lo definisco in Fulmini a Ciel Sereno questo gioco perché lo avevo visto e avevo fatto appunto domanda di poterlo provare ma non mi aspettavo fosse così veramente interessante me ne ero anche dimenticato perché era una cosa successa diversa un tempo fa allora Craft and Engine craftiamo un Engine ok una volta craftato credo dovremmo partire perché c'è anche l'indicatore vedete quello tutto a sinistra in basso quello circolare che si sta riempiendo credo sia anche il virus che sta arrivando insomma e tiene conto anche delle nostre stato fisico se siamo stanchi affamati adesso finiamo di produrre il motore e montiamo sto motore e almeno poi ce ne andiamo credo pick up no non posso prenderlo no aspettiamo che craft il Engine no infatti allora intanto ok l'ha completato ma ci ha messo un po' take engine ora place engine on the outside l'airship ok lo possiamo mettere per cavolo lo mettiamo il motore outside non qui qui possiamo metterlo qui vediamo ok craft synthetic fuel ok craftiamo il synthetic fuel che mi chiede synthetics perfetto l'ho messo lì un po' a caso ma vediamo se riusciamo a fare del synthetics synthetics sembra essere un qualcosa di assolutamente illimitato con queste cose che viaggiano così quindi molto bene allora synthetic fuel produco si qua lo fa rapidamente take synthetic e lo mettiamo all'interno del refuel quindi open e mettiamo dentro il fuel che dove cavolo è synthetic fuel lo mettiamo qui depart the location ok 15 ore vale come durata come un AAA di successo insomma non so un po' che calcolando che nella di access è uscito depart vediamo control ship ok control eh sì eh sì control shift altezza lock speed ok iniziamo a partire mi alzo altitude no non heading ok così ci muoviamo però non prende altitudine ok no adesso stiamo andando devo andare là flying to the resource ok è fatto così ci saranno varie zone da esplorare nel corso dell'avventura quindi non abbiamo anche il carburante credo qui con anche il vento che ci sta tirando fuori rotta posso salire o scendere quindi non sarà magari un'esplorazione libera nel senso che ci sono delle zone esplorabili e altre no però tant'è c'è qualcosa lì voglio vedere se posso atterrare dove voglio perché per me diciamo land location with a single flashing light ok eh sì stava lampeggiando sta torre qui quindi possiamo atterrare qui vediamo se posso atterrare dove voglio perché ci sono zone ok dai possiamo andare un pelo più avanti scendo ok wait for the analysis results io intanto posso mettermi qui a sparare ok ci sono nuovi oggetti che hanno bisogno dello scanner ok eh si studies menu quindi tenendo per un to tab mi porta già al menu studies e abbiamo vari oggetti che possiamo scansionare come nuovi perfetto quindi possiamo andare a scansionare beh questo lo conosciamo già però questo no quindi possiamo andare a scansionare vediamo abbiamo scoperto una turbina distrutta ok ecco si va avanti ad esplorare c'è questa torretta qui poi si potranno costruire anche credo delle delle basi non ho parcheggiato proprio benissimissimo voglio vedere se riesco a spostare la nave e riparcheggiarla in modo fatto meglio ma penso di sì perché non ci sono vincoli o punti d'atterraggio predefiniti predeterminati quindi posso scendere prendere questo e andare a demolire eh non riesco l'ho messa male devo dovrei spostarla pick up e la voglio posizionare così così sono un po' più comodo però non posso demolirla quella quella turbina lì devo andare a esaminare perché quella sembra essere una capsula di quelle simili a quella dove sono arrivato io con cui sono arrivato io sono stanchissimo c'è qualcosa qua premo e mi sale la scala sala la scala open prendo la batteria che sono sempre comode e credo sia tutto devo scansionare altre cose qua c'è la possibilità di riempire l'acqua ma non mannaggia cos'è questo scusate ma plastic scrap sono bloccato ah c'era ok explorer and scan tutti ok sì devo scansionare e ho parcheggiato anche in modo storto quindi climb on board questa è comodissima veramente una gran trovata per salire quando parcheggiate come un cane come ho fatto io quindi scendo e parcheggio bene sì è comodissimo comodissimo davvero niente devo andare a scansionare nuove cose perché ci sono elementi elettrici c'è un airship builder uh nuova ricerca airship builder vediamo un po' che cosa c'è da cercare perché inizia a diventare molto interessante la cosa allora no da ricercare però non da costruire quindi devo andare qui allora airship builder costruisce le navi le hull interior and ballon component e potrebbe essere un bel passatempo in attesa di starfield eh vi dico la verità plastic scrap note sticker per mettere i testi è molto interessante io direi che posso finire qui perché è assolutamente intelligentissimo in uscita il 22 di giugno vedrò di pubblicare per quella data spostando qualsiasi sia la pianificazione già impostata per quel giorno ehm perché dovete assolutamente vederlo questo titolo fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.